Musica Ladies and gentlemen, signore e signori, mai come oggi il duo di Edway è stato così separato e allora oggi assisteremo a un gran bel duello, l'angolo sinistro in tenuta rossa, Andrea Dasti nei panni dell'educazione di Lilliput all'angolo destro Stefano Lepre difendendo i colori blu di Edway in presa sociale che il duello abbia inizio Musica Buongiorno a tutti cari ascoltatori, dall'introduzione e presigla di Andrea avrete capito che quella di oggi è una puntata un po' speciale una puntata in cui non saremo più dalla stessa parte ma saremo l'uno dalla parte avversa all'altro e quindi direi bando alle ciance, due parole di contesto della controparte e poi si parte Eccomi allora leggendo i viaggi di Gulliver oppure Gulliver detto all'inglese ci siamo imbattuti nei quattro viaggi che l'autore compie nel primo viaggio, il viaggio a Lilliput libro scritto da Jonathan Swift nel 1700 e passa e nel primo viaggio appunto il protagonista Gulliver arriva a Lilliput, questa piccola isola con dei personaggi Lilliputiani che sono molto piccoli e si imbatte nel sistema educativo di Lilliput che andrò adesso a spiegarvi il sistema educativo di Lilliput funziona in questo modo, vi leggo uno stralcio che è questo i Lilliputiani pensano che i genitori siano le persone meno adatte a cui affidare l'educazione dei figli ecco perché in ogni città ci sono istituti di educazione pubblica nei quali tutti i padri e le madri che non appartengono al ceto dei contadini o degli agricoltori sono ottenuti a mandare i loro bambini maschi e femmine appena hanno compiuto circa 4 anni, l'età in cui si suppone che comincino a essere suscettibili di educazione e di istruzione questa lettura cari ascoltatori mi ha letteralmente illuminato sposo appieno il sistema di Lilliput che prevede appunto che i genitori devono stare fuori dalle palle nell'educazione dei figli che le persone devono essere divisi tra maschi e femmine e che soprattutto i bambini devono essere mandati in queste istituzioni pubbliche dove dei perfetti insegnanti ed educatori si prendono cura dei propri figli vi direi che può cominciare il duello con la mia prima tesi caro Stefano la prima tesi è che partiamo da i genitori fuori dalle palle e ti direi che i genitori devono stare fuori dalle palle nell'educazione dei figli per alcune ragioni la prima è che in questo modo il clima familiare migliora tu pensa ad avere i genitori che sono più alleggeriti possono occuparsi delle mansioni di casa, delle mansioni lavorative in modo più disteso quando i bambini arrivano all'età, diventano ragazzi, arrivano all'età adolescenziale non ci sono quegli stress di stare dietro ai ragazzi non sapere cosa fare perché non ascoltano insomma, una vita familiare, un clima familiare da una parte dall'altra più alleggerito bene Andrea, ti percepisco bello infervorito non cado in nessun tipo di tranello cioè lascio perdere quelli che sono stati i tuoi commenti prima di esplicitare la prima tesi hai accennato, anzi no, non voglio lasciar perdere hai accennato ai educatori perfetti quali e dove sono questi educatori perfetti hai accennato all'educazione separata maschi e femmine e qui non c'è bisogno nemmeno di spendere parole perché i valori e la validità della proposta di coeducazione penso sia chiara ai più e hai appunto detto anche di questo fatto dei genitori che devono starsene fuori e appunto non vado sul piano un po' più filosofico, culturale più che un piano è un terreno minato perché sappiamo entrambe che l'educazione per dirla da un bosco che cosa dà il cuore e che chi può superare più può competere con il cuore di mamma e papà ma correndo il rischio di risultare un po' banale la questione secondo me, dal mio punto di vista dal punto di vista di Edoué che adesso è il mio perché finché tu non rinsavirai si esaurisce su un piano più superficiale ovvero tu hai detto il clima familiare ne risente in positivo o meglio non ne risente ma ne beneficia in positivo e io mi sento semplicemente di dirti che grande scoperta cioè evitare dei problemi rende il clima più sereno però non è che perché è difficile starci dentro un qualcosa allora è meglio chiamarsi fuori quindi vale la pena dal nostro, dal mio punto di vista fare questa fatica nel tentare le vie per starci dentro bene insieme e anche perché no per sopportarsi che è un termine che nell'accezione riflessiva ha appunto assunto un buon'accezione negativa cioè del tollerarsi ma il sopportare vuol dire anche adattarsi e appunto insieme vivere un po' meglio uno spazio dei tempi e un contesto io non mi faccio prendere da questo tuo sentimentalismo da questo tuo essere politica di corretti ti dico anche che non solo migliora il clima all'interno della famiglia ma migliora il clima anche all'interno della scuola tu pensa ad una scuola elementare, media, asilo eccetera dove i genitori non possono entrare dove i genitori non possono difendere ideologicamente i propri figli i professori sarebbero più liberi più tranquilli e più in pace di poter educare e insegnare vero ma cioè vero perché sicuramente anche qui il fatto di doversi interfacciare gli uni con gli altri a volte causa un po' di difficoltà si porta dietro un po' di difficoltà però ritengo sia fondamentale inseguire e perseguire la dimensione dialogica ti ricordo dialogo dal latino dialogus che a sua volta deriva dal greco composto da dia attraverso logos discorso quindi attraverso il discorso il confronto verbale sfruttarlo come strumento reciproco per fare di cosa tu ti chiederai perché ci sono due agenzie educative direbbero quelli bravi due invece espressioni di comunità educante preferisco dire io che sono un po' in difficoltà nella società odierna questo è innegabile ma qui mi sento di fare un richiamo al caro e vecchio l'unione fa la forza se si è in difficoltà entrambi perché non provare a appunto perseguire inseguire questa dimensione dialogica e provare insieme a trovare una quadra allora visto che non ti ho convinto sul fatto che i genitori debbano stare fuori dalle scatole nell'educazione dei propri figli proviamo a spostare un po' la questione voglio vedere proprio cosa puoi rispondermi da questo punto di vista sentiamo l'educazione a Lilliput è più efficiente ok questa è una castroneria perché è una castroneria? perché non mi interessa assolutamente ragionare su questo piano l'educazione non deve essere efficiente non è una qualità dell'educazione essere più efficienti perché l'efficienza è già un concetto che soggioga la società odierna e quindi ti pregherei di lasciarla fuori dall'educazione se vuoi tienila dentro quella Lilliput ma dal nostro modello educativo che sia ben fuori e distante caro ascoltatore ascolta me ascolta me ti dirò perché in educazione l'efficienza è una caratteristica fondamentale e imparando da Lilliput possiamo apprendere che l'efficienza viene declinata almeno in tre aspetti e pensa che mondo meraviglioso sarebbe allora dal primo punto di vista un'educazione più efficiente permetterebbe di risparmiare in tempo pensate quanto tempo riusciremo a non buttare via e come genitori e come educatori e come ragazzi basta questi ragazzi che ha 30 anni sono ancora lì e non sanno che lavoro fare si devono ancora laureare basta basta i bambini i ragazzi vengono presi da piccoli a Lilliput vengono mandati in questi istituti che sono divisi per ceto sociale per cui il nobile farà il nobile il politico farà il politico la persona che nasce come contadino agricoltore sarà contadino agricoltore il borghese sarà borghese insomma già tutto bello predeterminato non si spende tempo a 11 anni gli artigiani stanno già tessendo stanno già creando artefatti manufatti insomma una cosa che si risparmia in tempo dopo si risparmia dal mio punto di vista anche in soldi perché perché ad esempio i genitori non devono spendere tutti quei soldi per mandare all'università i propri figli devono spendere sì soldi per mandare i propri figli a queste istituzioni pubbliche ma comunque sanno che i loro soldi non sono spesi inutilmente e risparmio di soldi ad esempio anche per lo Stato non ci sono bambini bocciati che devono ripetere gli anni e direi una terza parte dell'efficienza dal mio punto di vista saranno i risultati o allora uno che studia fin da piccolo per diventare borghese per diventare un re per diventare un politico per diventare un agricoltore sarà efficiente in quello che ha studiato ma perché un agricoltore deve studiare anche altre cose quando è piccolo studia esattamente quella cosa sarà bravissimo in grado di fare quella cosa ti siamo grati Andrea per questo sproloquio che ha iniziato dicendo imparando da Lilliput ma noi da Lilliput abbiamo ben poco da imparare abbiamo invece possiamo imparare possiamo prendere spunto da tante altre fonti sicuramente tra queste c'è il padre della pedagogia moderna quindi J.J. Rousseau che era solito ribadire che in educazione è necessario è valido perdere tempo per guadagnarlo quindi la tua prima argomentazione a sostegno della tesi ovvero che c'è l'efficienza a livello di gestione del tempo non ci tange nel senso che appunto il tempo in educazione è bene perderlo poiché fa la differenza è il tempo che hai dedicato alla tua rosa diceva il piccolo principe e la resa speciale e quindi partiamo da questo dopodiché prendiamo sicuramente spunto dai nostri padri costituenti che per fortuna erano più illuminati di quelli di Lilliput e che all'interno della costituzione stessa fanno delle sottolineature fondamentali riguardo al fatto che l'educazione non è che può deve essere un ascensore sociale quindi articolo 3,2 è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese quindi appunto l'educazione come ascensore sociale come un mezzo per approfondire andare più a fondo appunto e crescere sicuramente a livello umano e a livello di esperienze di bagaglio esperienziale per chiudere possiamo prendere spunto e qua faccio un'autocitazione dalla seconda puntata dei due podcast season 3 in cui abbiamo sottolineato che il fine ultimo dell'educazione è la libertà quindi va da sé che l'educazione non può essere predeterminata al contrario di quanto pensassero a Lilliput e quanto ancora qualcuno pensi al giorno d'oggi l'educazione è la via come abbiamo sottolineato più volte ma non è il punto d'arrivo se il fine ultimo è la libertà non si può circoscrivere questa libertà altrui cioè sarebbe un ottimo sistema in una società di robot ma non può essere un sistema valido per degli uomini con la U maiuscola degli uomini liberi appunto e tu vero ascoltatore da che parte stai? dal sentimentalista filosofo pedagogo Stefano oppure con l'efficiente Andrea? ai posteri la rosa sentenza buona giornata a tutti a presto ciao a presto a presto a presto a presto a presto